Ciao a tutti e e benvenuti sul mio canale YouTube. Questo è il pecorino fresco che ho comprato direttamente in Sardegna, un pecorino dolce che userò per fare queste seadas. Questa è la semola, lo stesso l'ho comprata su Adoristano. Vedete il formaggio è morbido, quindi è abbastanza fresco per grattugiarlo. L'ho grattugiato, vedete, insieme ho grattugiato anche la buccia del mio limone che era ancora verde perché non mi trovo l'arancia, ci andrebbe anche l'arancia, ma non è stagione quindi ho preferito mettere soltanto il limone. È veloce perché la ricetta originale prevede di far sciogliere il formaggio, di farlo inacidire, invece io l'ho soltanto grattugiato, quindi questa non è assolutamente la ricetta originale delle seadas. Bene, compatto un pochino il formaggio così con le mani. Ci ho messo anche mezzo cucchiaio di zucchero, però potete anche ometterlo. Ecco qua, compatto un pochino, poi lo copro e lo appoggio un attimo da parte. Allora, ho messo la semola sul piano di lavoro, scusate ho saltato una sequenza, ci ho messo un cucchiaio di olio, però ci va lo strutto, ci andrebbe lo strutto, perché lo strutto aiuta poi a far gonfiare un pochino quando si va a friggere, a far venire le bolle. Però l'olio può andare lo stesso. L'acqua la metto mano a mano, quindi acqua quanto basta, piano piano aggiungo all'impasto, deve venire un impasto non durissimo, altrimenti non riusciamo poi a stendere la sfoglia, che deve essere abbastanza, diciamo, sottile. Bene, continuo ad impastare. Qui ho fatto qualche taglio, comunque ci siamo quasi. Ok. Raccolgo tutti i pezzettini. Una volta reso omogeneo l'impasto, lo lascio riposare una ventina di minuti, lo copro e lo lascio riposare. Passato il tempo, possiamo decidere se allargare la sfoglia con un matterello, oppure con una macchinetta, la macchinetta per la pasta. Penso che farò così io. Adesso tiro fuori la macchinetta e continuo con la macchinetta. Farò delle strisce, la consistenza, avete visto, sottili, ma non troppo, altrimenti poi si rompono, però devono venire abbastanza sottili. Poi farò i cerchi con questo coppapasta. Mi vengono non grandissime, diciamo che sono medie così, però di solito vanno fatte più grandi. Naturalmente i ritagli, poi li compatto e ci farò altre sfoglie. Ok. Continuo a tagliare. Ecco qua. Dopodiché vado a mettere l'impasto, vedete, io ne prendo un pochino con un cucchiaio, presto a poco un cucchiaio, oddio, queste sono piccoline, altrimenti se sono più grandi mettetene di più. Lo compatto un pochino con le mani e vado, vado a stringere prima con i polpastrelli e poi con la forchetta, così gli faccio il classico ricamo. Ecco qua. Vado anche con un po' di semola per non far appiccicare l'una all'altra, per non farla appiccicare. Se non avete il pecorino, va bene, andrebbe bene, c'è chi lo fa anche con il caciocavallo. Non va bene il pecorino romano perché è troppo saporito. Quindi ci vuole un formaggio semidolce, diciamo. Però si trova anche, il pecorino sardo ormai si trova dappertutto, in tutta Italia. Bene, finisco di appiccicare, di appiccicare bene queste ultime seadas. Poi mi sono preparata un olio di semi di arachide per friggere, in un recipiente stretto e alto. Le faccio dorare prima da una parte, poi dall'altra senza farle bruciacchiare tanto. Poi le ho cosparse di miele, ho usato il miele dei castelli romani di Andrea e Tiziana. Eccole qua. E ci ho grattugiato ancora un po' di limone. E sarebbe meglio però l'arancia. Bene amici, vi ringrazio della visione. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.